ciao amici oggi parliamo di un evergreen che fa sempre tendenza qui su youtube i miracoli dello zenzero o qualche vip della tv ma no lo zenzero non fa miracoli ne abbiamo parlato in questo video e la tv non c'entra sto parlando dell'argilla verde e dei suoi super benefici l'argilla verde è un minerale che deriva da sostanze vegetali come alghe e piante il suo colore verde è dovuto all'alta presenza di rame ma contiene anche calcio magnesio alluminio fosforo zinco e silicio è proprio questa combinazione di minerali a rendere l'argilla così benefica e non solo per l'aspetto esteriore ma anche per la salute del corpo vediamo ora insieme 4 benefici dell'argilla verde se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 depura la pelle una maschera viso con argilla verde mescolata con un po di acqua tiepida restringe i pori dilatati elimina le cellule morte e ammorbidisce la pelle secca 2 combatte l'acne l'argilla verde è molto utile anche per combattere l'acne bisogna preparare un composto con argilla verde acqua tiepida e limone si applica su tutto il viso per 15 minuti o solo sui singoli brufoli per tutta la notte 3 efficace per la cellulite l'argilla verde permette di ridurre la ritenzione idrica la prima causa di cellulite si fa un composto con acqua limone un cucchiaino di sale uno di miele e argilla si applica sulla cellulite per mezz'ora tenendolo coperto con della pellicola risultato assicurato 4 detox per l'organismo l'argilla verde anche un ottimo disintossicante fa un buon detox per l'organismo come detox ripulisce l'apparato digerente e sgonfia l'addome il risultato è pancia più piatta e pelle più pulita grazie all'eliminazione delle tossine avete visto amici quante proprietà benefiche ha l'argilla verde e voi cosa ne pensate conoscevate già tutti questi suoi benefici o come la usate per ottenere il meglio da questa sostanza se volete conoscere altri consigli di bellezza naturale trovate qui sotto il link al mio libro manuale moderno di estetica olistica per vedere tanti altri video sui migliori rimedi naturali per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio